Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, carico, 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 come sempre. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale per la informazione, quella che davvero vi serve per allenarvi e migliorare. L'argomento di oggi è molto interessante, abbastanza insidioso e sono curioso di sapere i vostri commenti. Allora, il governo è la presunta legge che punisce gli youtuber per incitazione a comportamenti illegali. Dopo la sigla. Allora, sembra che la notizia di ieri, molto recente, ovviamente è tutto così, per adesso non c'è nulla, però si è parlato di questa cosa che il governo vorrebbe fare una legge, a Milone in particolare, anche su spinta di Salvini, eccetera, eccetera. Ma adesso, attenzione, le cose che vi dico adesso, io vado di fuori della sfera politica e vi ho citato questi nomi perché, insomma, sembra che l'idea sia partita appunto dal governo e dai loro rappresentanti principali. Allora, dopo il triste incidente della Lamborghini, Urus, dove è morto il bambino, eccetera, eccetera, ma anche lì ci sarebbe da dire, comunque, sembra che il governo ci ha pronto una bossa di legge, ne ha parlato anche un esponente politico del Ministero della Giustizia, stiano facendo una bossa di legge su questo problema qua, cioè che punisca fino a cinque anni di galera chi, tramite YouTube, YouTuber, non tanto incita la violenza, perché questo reato c'è già, attenzione, ma come esaltazione e incitamento di comportamenti illegali, cioè è una sfumatura un po' più, anche un po' nebulosa, però forse anche un po' più specifico. Ovviamente in questo caso è rivolta a chi, qui adesso si parla di chi corre con le macchine, chi fa queste cose qui, perché ci sono tanti quelli che vanno in rete con queste macchine che corrono, anche i famosi YouTuber, e quindi sembra rivolta su questa cosa qua, sull'onda dell'incidente, però attenzione, perché questo è il punto che vi voglio parlare, attenzione, vi voglio fare effetti su alcune cose, io vi pongo le questioni, poi ci ragionate anche voi. Ammesso che questa legge si farà, e c'è da dire che questo governo ogni volta che ha voluto fare certe leggi, anche a seguito di tanti fatti che sono successi, avete visto che poi le ha fatte veramente, adesso possiamo citare i live party, possiamo citare, insomma, sembra che quando dicono una cosa generalmente la fanno, poi ognuno la pensi come vuole. Ma ammesso che venga fatta questa legge, attenzione, io vi dico una cosa, al di là del fatto di quelli che fanno le corsa alle macchine, eccetera, eccetera, poi questa legge è fatta anche per, non so, le baby gang, quelli che vanno lì a fare i video, tutti così, che incitano la violenza, le pistole in mano, che fanno tutte cose, spaccone. Riguarda un po' tutte queste categorie, però attenzione, la domanda che vi faccio è questa, mi vengo un po' al nostro mondo. Ma allora, chi viene qui, chi viene qui in YouTube che parla ai ragazzi e spiega come usare i farmaci, spiega che se usati bene non sono dannosi, insomma, questa cosa qua, potrebbe rientrare nell'esaltazione dei comportamenti illegali, perché chiariamo subito che l'uso dei farmaci dopanti è illegale, non solo per chi gareggia, comunque già è illegale, perché c'è una legge contro i dopi nello sport, quindi già quello, ok? Basterebbe solo quello, ok? Ma anche chi non fa sport e detiene dei farmaci che non può avere, che li compra da fonti illegali, l'ho già detto molte volte, li compra da fonti illegali, sono farmaci che non può detenere, comunque commette, quantomeno un illecito, poi sul penale si vedrà, se li ritrovano si vedrà, se verrà assolto o meno, come dice qualcuno, sicuro un illecito venisse questo, non può dopo, ve la vedrete, comunque non ne può detenere nessuno quei farmaci lì, se non dietro prescrizione di uno specialista, che uno sia malato, allora, ma siccome tutti quelli che li usano malati non sono, e li usano per andare in palestra, e li comprano a traffici illegali, perché poi c'è anche un attoreato che è la detenzione di farmaci pericolosi per la salute, quindi anche chi non fa gare e chi ha questi farmaci va contro la legge, punto, allora, se uno sta qua a dire ai ragazzi, ai giovani, ah no, ma comunque io li uso, però vi dico che, no, perché poi loro prima dicono, io non vi dico di usarli, però poi dicono io li uso, attenzione, io li uso e vi dico che se fate le cose per bene, se non esagerate con le dosi, se fate gli esami, se potete usarli con pochi rischi, e spiegano come usarli, spiegano come usarli, allora, questa cosa qua, potrebbe rientrare, ammesso che si faccia questa legge, che ripeto, è tutta da vedere, eccetera, eccetera, ma questa cosa, allora, cosa succede? Potrebbe rientrare nell'esaltazione dei comportamenti legali, comportamenti illegali, se ci ragionate bene, a mio avviso, ci rientra, come ci rientrano tante altre cose, attenzione, come ci rientrano anche tante altre cose, difatti, qui qual è il pericolo, perché voglio dire anche questa cosa, perché c'è già il reato di incitazione, incitazione, incitazione al reato, c'è già questa forma di reato, esiste già, che secondo me andrebbe già applicata, a chi viene qua a dire, usate gli steroidi, vi spiego come fare, secondo me già lì, si potrebbe già applicare quell'articolo, cosa che non è mai stata fatta, e non fa nessuno, va bene, ma questa cosa qui, questa sfumatura, essendo ancora più, che prende ancora molto di più, dei comportamenti, paradossalmente, qui, è questa cosa, è molto più efficace, come per colpire, queste forme di diffusione, di incitamento, all'esaltazione, di comportamenti illegali, questa potrebbe veramente coprire, tante cose, e poi, siccome adesso, se viene fatta proprio per i youtuber, questa cosa, c'è, adesso la rete di ingrandimento, sarà molto di più, su questa cosa qua, cioè prima, il reato di incitazione, della violenza, i youtuber, i youtuber, non interessava nessuno, perché alla fine, non mi risulta nemmeno mai, che sia stata applicata, ma adesso, se questa cosa, legge venisse fatta, proprio in relazione, ai youtuber, agli youtuber, ecco che, gli istrettori, sembrano molto più concentrati, su questa cosa, e quindi qui, veramente, attenzione, perché dopo, cominciare a dire, si usate i farmaci, non vi preoccupate, basta che fate le cose per bene, attenzione che non lo so, fino a che punto, attenzione, fino a che punto, possa passare così facilmente, va anche detto, che qui c'è un altro rischio, però, perché lo voglio dire, io intanto vi lanciare, la palla come riflessione, voi vedete voi, ovviamente io, da parte mia, da molti anni, molti, molti anni, non faccio altro che dire, di stare lontani dal doppi, di fare un comportamento di salute, e di allenarvi in modo naturale, state in salute, non bevete, non fumate, non drogatevi, cioè io, più di così, non so cosa fare, io sono sempre stato all'opposto, di queste così, presunte, presunte idee, che vengono diffuse, chiunque mi segue da tempo, sa che io ho sempre detto, ai ragazzi, cose di salute, di ideali, di stare lontano dai vizi, dai problemi, dalla violenza, droghe, alcol, fumo, state sani, allenati, state lontane da dopo, io lo dico da sempre, e da sempre sono criticato, calunniato, offeso, diffamato, di tutto, io, mentre tanti altri, vengono messi su piedi stanno, ah no, questi sono in gamba, questi sono bravi, che dicono magari, hanno fatto, e dicono certe cose, e io, invece, cercate di capire un po', allora, ma volevo dire, qual è il rischio, che secondo me può anche esistere, che alla fine, questa cosa, questa legge, se venisse fatta, potrebbe colpire anche, come dire, delle idee, delle idee che magari, non sono delle, delle proprie esaltazioni, di illegalità, sono delle idee che però, se la rete è così grande, non si sa come potrebbe andare a finire, allora qualcuno, per esempio, ha citato, qualcuno ha citato, ma degli esempi che ho letto, qualcuno dice, ma allora se uno, per dire, fa un video dove parla contro, contro la legge sulla maternità surrogata, che adesso sembra che faranno anche questa, allora se uno ne parla contro, cosa fa? È un'esaltazione, comportamenti illeciti, ma è un esempio, allora se uno protesta, perché viene vietata, la legalizzazione della cannabis, e lui dice, no secondo me questa cosa è sbagliata, potrebbe rientrare anche lui, in un'esaltazione di comportamenti illeciti, perché comunque, usare droga è illecito, poi su tanti altri settori, tante altre idee, uno magari dicendo la sua idea, su una cosa che, in teoria è illegale, che però uno manifesta la sua opinione, potrebbe rientrare in questo ombrello, di questa legge, che dovrebbe coprire un po' tutto, che però ripeto, è stata fatta per YouTube, e questo è il punto, è questo che cambia le carte in tavola, quindi qui, io non so se questa cosa andrà avanti, ripeto, al fatto attuale non si sa, è una proposta, però da come si sono viste le cose, quando un'idea l'hanno avuta in testa, questi qui del governo, l'hanno fatta, quindi, se io dovessi scommettere, sul fatto che la faranno, io secondo me la faranno, secondo me la faranno, anche perché poi, quando si espongono su questa cosa, che l'han detta dopo, secondo me la faranno, detto questo, cosa succederà? Non lo so, forse, per quanto riguarda il nostro mondo, del culturismo, potrebbe essere un bene, perché, così, fino adesso, chi viene qua, a parlare con tanta nonchalance, di come bucarsi il sedere, o come drogarsi, come diventare tossicolipendente a steroidi, minimizzando i rischi, non lo so, se lo potrà fare ancora, bisogna vedere, io ripeto, non lo so, è tutto da vedere, però essendo questo un comportamento, che io ho sempre criticato, al di là della legge che vengo meno, io l'ho sempre detto, questa cosa per me è sbagliata, è diseducativa, per me è diseducativa, che uno venga qui a spiegare ai giovani, come usare i farmaci, ma non veramente, non riesco proprio neanche a concepirla, uno li usa per se stesso, ho capito, e usali, ma cosa la vai, vai a insegnare qui pubblicamente, ai ragazzini, come usare i farmaci, ma stiamo scherzando, poi c'è anche il discorso, di tanta gente, che magari non dice queste cose, però sono delle farmaci ambulanti, e comunque, poi si propongono qui alla gente, ma anche questo, non lo so, poi fino a che punto, insomma, questa cosa, secondo me ne parleremo ancora, intanto vi ho lanciato così, come motivo di discussione, questa cosa che, se pensate bene, potrebbe essere veramente molto, ma molto rivoluzionaria, e importante per, chi sta qui a YouTube a parlare, e, ripeto, c'è anche un potenziale di liberticida, in questa legge, perché lo voglio dire, potrebbe essere, un grande potenziale di liberticida, sull'idee, d'altra parte, però potrebbe essere anche, molto efficace, per chi veramente, veramente, viene qui, a, esaltare comportamenti illegali, ai giovani, gli esempi sono tanti, non solo delle macchine, ma, in tanti altri modi, ci sono tanti comportamenti, illegali, che vengono esaltati qui, per fare le visualizzazioni, lo sappiamo, quindi, ragionateci sopra, dite la vostra, e, però guardate che questa cosa, potenzialmente, può diventare, una cosa enorme, o nel bene o nel male, non lo so, ma, secondo me, qui c'è il potenziale, per, fare un bel botto, vi ringrazio, aspetto i vostri, commenti qui sotto, ovviamente, siate civili, siate educati, non citate, poi questo, quello, questo, quello, fate le vostre chiedi, in senso generale, e, se ne parlo, ok? Grazie a tutti, al top!